Visto che siamo sotto Natale, oggi vi insegno come si fa il trollone fatto in casa. Ecco le cose di cui avete bisogno. Innanzitutto le mandorle, i pistacchi, il miele, lo zucchero, un pezzo di cannella, a piacere un mandarino o un limone. Poi avete bisogno di due vaschette d'alluminio, zucchero a velo, due uova e una bustina di vanillina. E infine una pentola con il fondo spesso. Allora le quantità, per quanto riguarda le quantità oggi mettiamo 600 grammi di mandorle, circa 100 grammi di pistacchi, 400 grammi di zucchero e circa 800 grammi di miele. Le mandorle devono essere tagliate a pezzettini, devono essere messe in forno a poco, abbastanza lento, non più di 100 gradi, perché devono essere tostate, senza perdere questo colore bianco. Prendiamo la pentola e la mettiamo sul fuoco con una retina. Il fuoco deve essere al minimo perché in questa ricetta l'importante è il calore. Eccessivo calore rovina il torrone. Quando la padella è un po' calda, è abbastanza calda, si incomincia a versare il miele. Il miele da usare, possibilmente un miele da caccia, che come vedete ha un colore biondo chiaro, perché altrimenti il torrone verrebbe troppo scuro. E' importante girare sempre, per fare sciogliere il miele, scaldarlo, ma non scaldarlo troppo, altrimenti impazzisce. Questa operazione deve durare circa 10 minuti. Trascorsi 10 minuti, versiamo lo zucchero. Adesso versiamo lo zucchero. E poi incominciamo a girare. Girare per amalgamare bene zucchero e miele. Bisogna farlo con movimenti abbastanza rapidi, per evitare che si creino dei grumi. Continuate a girare per almeno 20 minuti. La fiamma deve essere al minimo, la fiamma deve quasi spegnersi, chiedendo che il calore sotto la pentola non sia eccessivo. Un'intanto controllate le mandorle. Rivoltatele. E' importante che le mandorle mantengono il loro colore bel chiaro. Trascorsi 20 minuti, prendo i pistacchi, che ho in parte spezzettato, e li aggiungo alle mandorle. Li mischio con le mandorle. E richiudo il forno. A questo punto monto le chiare d'uovo a neve. Le chiare d'uovo metto un pizzico di sale. E con la fusta comincio a montarle. Adesso le chiare d'uovo sono montate a neve ferma. Adesso dobbiamo mettere pian pianino le chiare d'uovo dentro il miele e la zucca. Questa operazione va fatta rapidamente perché le chiare d'uovo tendono ad aggrumarsi. Semmai vi potete aiutare con una frusta. Così. Sempre con la frusta e un cucchiaio di legno, man mano incorporate le chiare d'uovo al miele. Questa è un'operazione abbastanza complicata, ma con un po' di manualità si riesce a risolvere il problema. Torno, arriva il cucchiaio, e arriva la frutta. Bisogna evitare che si formino dei grumi. A questo punto abbiamo messo tutto l'albume dentro il composto, che è diventato di un colore panna. Facciamo passare ancora un po' la frusta per amalgamare bene. Dopodiché spegniamo. Lasciamo sgocciolare e cominciamo a girare con la nostra spatola. Qui siamo all'operazione forse più importante, perché il composto si deve un po' caramellare, ma non deve cambiare colore. Se prende troppo calore, tende a diventare ambrato, e non va bene. Il composto deve mantenere sempre questo colore panna, fino a che mettiamo le mandorle e i pistacchi. Quindi girare bene per una buona mezz'ora. Il composto è rimasto bello bianco, color panna. Si è un po' caramellato. Adesso non resta che mettere un po' di vanillina, una grattata di bucce di mandarino, e poi le mandorle e i pistacchi. Adesso mettiamo la vanillina, che dà un po' di profumo. giriamo bene. Adesso una grattata di bucce di mandarino, che dà un buon aroma. il mandarino è il profumo di Natale. Giriamo ancora. A questo punto versiamo le mandorle e i pistacchi. Belli caldi. Alla prossimo. Torniamo. Adesso potete girare così qualche minuto e intanto preparate le vaschette d'alluminio. Grazie.